Ehi ragazzi, come va? Io sono FeriNiki E io sono Steph, e questo è un video che mi ha Roblox E quest'oggi siamo in un tycoon che ci è stato chiesto tantissimo Ovvero, l'Apple Store Tycoon Esattamente, sembra davvero fantastico Abbiamo soltanto iniziato un po' la produzione e non c'è altro da dire ragazzi Per me si descrive così Ci sono degli ammini che creano in questo momento iPod e iPhone È fantastico, cioè, non so È bellissimo, è bellissimo Davvero, è geniale Allora, iniziamo... Cosa stai cercando di lanciarmi? Ho lanciato qualcosa, ma non so Che cos'era? Non capisco cosa serve Ma fa male? Non lo so Cosa dovrebbe essere, scusami? Ho provato a tirartelo in faccia, ma non è successo nulla Sembra tipo un telefono andato male Spim, ti ho fatto male Ti ho tolto un po' di vita Evita di tirarmelo in faccia, grazie Spim Aia Secondo me è un telefono che puoi lanciare in faccia Non vorrei dire, ma è un telefono che prendi e tiri così in faccia le persone Esattamente Allora, mi prendo tutti i soldi che ho e aumentiamo la produzione Adesso possiamo mettere una persona che crea gli iPad Fammi vedere un attimino un bel iPad Fai vedere gli iPad Che gigante! Eh vabbè sì, l'iPad è bello grande, bello Adesso un MacBook Addirittura, tutto sceme Fammi vedere il MacBook Bellissimo, bellissimo Dopodiché c'è l'iMac per 1100 Che possiamo già permetterci Quindi questo qua è l'ultimo che riusciamo a fare Cambia tra MacBook L'iMac e lo schermo E Mac Vedi? Ah ok, non sono esperta Eh però cade, lo spaccate così State attenti Attenzione Dicevo non sono esperta di prodotti Apple purtroppo Non mi ricordo i nomi di tutte le cose Lo sapevo Però se li vedo capisco Guarda quelli che cascano No sì sì, guarda Di sicuro non comprerei una roba Apple Se li trattano così Ma hai notato una cosa? Dimmi Che cambiano tutti i lavoratori Guarda questi due Ah ah Poi questi qua E questa è una ragazza Ma e poi ha qualche problema con le spalle Poverina No vabbè perché come il personaggio E come il mio Vedi quando si muovono le braccia Rimangono così Però cambiano anche i lavoratori Bellissimo Bellissimo Mi sembra giusto È una catena importante Capito? Certo, certo Allora vi farei notare ragazzi Che siamo sotto terra E infatti qua possiamo comprare le scale Per andare nella superficie Diciamo Mentre qua c'è un buy up packager Secondo te che cos'è? Qualcuno che fa il pacco E finalmente mette i prodotti Vediamo In un Un upgrader Ok Ah ok No no vedi che li impacchetta Avevo ragione No No ma solo la produzione è fantastica No Cioè non c'è neanche bisogno di vedere cosa c'è sopra Vero Perché già questo è fantastico Rimaniamo già qui a vita Perché è già meraviglioso No vabbè Ma scherzi Sicuramente aumenteranno di valore Però i pacchetti così bellini Non me li aspettavo Comunque ti fari notare Che proprio le scatole Sono identiche alle scatole Che trovi nel negozio Sì sì Sono state riprodotte Alla perfezione Non solo i prodotti Ma anche l'intera scatola Io apprezzo tantissimo Quando i taekun Sono così ben fatti Anche io Sono così curati Quindi mi emoziono Ti dico la verità Mi emoziono Non ti emozionare Non c'è bisogno Bellissimo è bellissimo Non c'è bisogno Vorrei solo urlare Guarda Invece ti tiro un telefono in faccia No 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 Guarda ti compro un Apple Watch Worker Cos'è l'orologio giusto Oh mamma mia E lei che ci fa qua Ma scherzi Sì sì fa gli orologi Li vedi che bellini Ah quindi mi vuoi dire che all'Apple Hanno i robot per fare gli orologi Allora si spiegano tante cose Sì sì Furbetti Sì sì Bellissimo però È molto bellissimo Sì bellissimo Ma si può anche spegnere da dietro Guarda c'è una specie di antennina rossa Ma è bellissimo Sono incantato da questo robot Perché è bellissimo Non l'ho mai visto Il prossimo che cos'è? Dottor Dre Non l'ho mai visto Dottor Dre Dottor Dre E che c'entra? E non lo so Dobbiamo repare? Non lo so Ma Dottor Dre infatti non è quello che faceva Le canzoni con Emin Esatto esatto Eh mi ricordo Volevo dire che secondo me Non abbiamo mai visto un taekun Con una produzione così bella Perché magari esteticamente O con cose da fare Abbiamo visto davvero taekun bellissimi Però con una produzione Fatta così bene Guarda supera addirittura Quello della pizza Che era già di per sé fantastico Assolutamente sì Soprattutto perché Allora Sì Cambiano tutti i lavoratori Perché ognuno è diverso E abbiamo addirittura il robot Cioè che cosa puoi pretendere di più Da una produzione È lui davvero È lui davvero E cosa produce però? Cosa fai? Le cuffie Giustamente Ma perché ha fatto le cuffie Per la Apple Con il suo nome? Non lo so Non l'idea però probabile Perché avrebbe senso Dicevo Sì La produzione degli oggetti È riprodotta alla perfezione Le scatole Perché addirittura Vengono imballati Come nella realtà Sono perfette Cioè cosa vogliamo di più? Cosa vogliamo di più? Un tizio che vola con un tappetto Con sotto l'overboard Ma Salve Aia mi ha investito E allora Io ti vendico Ti ha fatto volare Ma l'hai ucciso Certo Grazie per avermi vendicato Perché non si doveva permettere Di farti cadere Tanto lui è un consolino Quindi può morire Quante volte vogliamo Sono d'accordo Abbiamo finalmente La possibilità Di andare a vedere Un po' la luce del sole Yeah E qui ci sarà Tutto il nostro negozio Giusto? Ma guarda lì in fondo Che ce n'è uno finito Diventa così Oh mamma mia No non farmi vedere troppo Però c'è un overboard qua No 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 Lo voglio io Lo voglio io L'ho rubato L'ho rubato Uii Eccomi Ma ti sembra che devi Rubare le cose degli altri? Certo non ce l'abbiamo ancora Quindi l'ho rubato Ma è arrivata già rubando Aspetta aspetta Come si scende secondo te? Con le backspace Prova? No No? Control? Niente? Secondo me Devi togliere Capito? Devi usare il tasto Ma non me lo conta come oggetto mio Quindi penso ci rimarrò qui sopra Va bene È sebellina così Grazie Sei molto carina Allora ho visto che qua sopra costa tutto l'ira di Dio Però compriamo i primi muri Oh Finalmente dei muri grandi Come piacciono a te Sei felice finalmente Guarda per ora questo Tycoon è promosso in tutto e per tutto Solo per le mura Solo per le mura È molto importante per me È proprio una di quelle cose che fa capire la serietà del Tycoon Vai a Genius Bar Genius Bar Eh non so cosa sia Il bar dei geni Oh che bello Oh che bello comunque Guarda abbiamo preso delle cosettine Abbiamo già il negozio praticamente nella sua intera forma È bellissimo Tavolini? Tavolini questi come espositori sicuramente ci saranno tutti i prodotti È molto molto probabile Tu stai avendo problemi con quello per bordo Eh sì 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 Non riesco a scendere mi dispiace Rimarrò qui per sempre Allora ho notato che adesso ci serve il Genius Bar da 7000 Altri tavoli da 4000 Qua fuori c'è il luogo da 20.000 Wow Cioè il luogo Apple costa davvero tantissimo Quasi quanto i loro prodotti Esatto E l'owner door costa 3000 Che almeno quella non costa troppissimo Quindi abbiamo bisogno di fare un bel po' di soldi Anche perché non mi sembra che ci sia altro per fare soldi Quindi dobbiamo aspettare un po' Magari ci facciamo una passeggiatina Uh vieni Vieni Sta arrivando? Vieni c'è un bel parchetto qua Non tutti hanno l'overboard Ci possiamo sedere Guarda puoi fare un arrosto Vorrebbe un arrosto di Capitan Jeff No Non ci provare Però guarda qua che bello 28.000 Oh finalmente possiamo comprare un sacco di cose Venga su venga su venga su Allora ci compriamo Prima di tutto il bar perché sono curiosissimo Ah No è una sorta di laboratorio credo giusto? No vedi questo qua è proprio un tavolino da bar Ai genius No vedi è un laboratorio No non è laboratorio Mi sono ricordato perché l'avevo visto da una puntata in South Park Praticamente i genius sono quelli che lavorano nell'epo store E vengono chiamati genius perché ti sanno risolvere qualunque problema Che hai con un tuo prodotto Apple E quindi si chiamano genius Ah ok ok Ho visto una puntata in South Park è troppo divertente su questa cosa E train che vuol dire allenare i geniuses cosa sarà? No aspetta Gli puoi fare le domande? Aspetta Allora No 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 ferma ferma Ma io non posso fargli nessuna domanda Allora Vada lei Come posso aiutarti? Non posso connettermi a internet Oppure il mio MacBook non si accende Quali sono i termini e le condizioni? Oppure dovrei comprare un iPhone o un Samsung? Ok da quale vuoi partire? iPhone o Samsung Ok È una domanda che mi sono sempre posta Vediamo cosa ti risponde iPhone Punto Bravissimo Bravo Bravo Dici più Dici più Hai già capito Ovviamente non è il Apple Store Cosa può tipo Come posso aiutarti? Voglio sapere i termini e le condizioni Eh Li hai accettati? Degli sì 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 Ok Ti possediamo Vedi? Questa era quella cosa di South Park Quindi dici che è proprio ispirata a South Park? Secondo me sì Perché è totalmente uguale Ok Invece voglio vedere se li diciamo di no Aspetta Sono troppo curioso No Ok Devi accettarli Ah perfetto Quindi non l'hai scelta Allora No no ne abbiamo ancora Ne abbiamo ancora Ah le puoi fare tutte Vai 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 Allora perché non si accende il mio MacBook Eh Hai Io non leggo quindi me lo devi dire Hai provato a spegnere e riaccendere Il MacBook Sì Non mi sembrano tanto genius però Invece lo sono Mi sembrano un po' tontoloni Sinceramente Poi non riesco a connettermi a internet Non sei sicura di averla acceso Andiamo fuori Andiamo fuori e vediamo cos'altro c'è Oh è apparsa anche questa porta Ah Carina È la porta della produzione Soltanto il personale ci può entrare Mi sembra giusto Giustamente noi siamo il personale Non bisogna far vedere i segreti della Apple Assolutamente no Allora io voglio comprare Questo Bello Bello Questo Belli Uh carino No Voglio le cuffie C'è Scrillex Ah Ah ciao Scrillex C'è Pokémon Pokémon Pikachu E poi gli altri non li conosco Questo penso che Questo è Tigro di Winnie the Pooh Esatto E gli altri due non lo capisco E questo è un personaggio di Roblox Che non capisco a cosa debba assomigliare Ma non lo so Belli PC Altri tre Così molto carini Fammi vedere Secondo piano 10.000 10.000 hai preso tutti Tutti assieme Tutti assieme Sì Ma è epico Ma scherzi No le targhette Ahimè così non ci sbagliamo più iMac iPhone MacBook MacBook iPhone iPad È davvero geniale È troppo bellino come l'hanno fatto Manca so tanto la gente che viene qua a giocare a scrocco Perché io faccio sempre così Vado nel negozio dell'Apple E mi metto a giocare ai giochini con le app Tu non l'hai mai fatto? No perché sono una persona educata Non le faccio Ma c'è il gioco di macchine con l'iPad È una figata No non lo faccio Grazie Non lo faccio Fai male perché è davvero Dovrei iniziare dici Ok Facciamo un raduno dei consolini In un negozio dell'Apple E ci arresteranno tutti quanti Perfetto Esatto Secondo piano ho comprato Ok ci fanno pagare anche le scale A parte lo posso accettare Questo lo posso comunque accettare Scale ci sono da tutte e due le parti Ok vabbè compriamole da questa parte Belle e trasparenti Come nei negozi fighissimi Bello questo Esatto Allora qua vedi c'è Overboard Magic Carpet Katana Gravity Coil Wall 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 Partiamo da questi Che sono in vet Ecco qua Arrivati Arrivati I muretti bassi per step Sono arrivati Non iniziate Compriamo questi Ok questo è gigantesco Ok Meno male Poi ce n'è un altro da comprare qua Ma è pienissimo Eh si hanno fatto tutto ad angoli strani E poi qua È pienissimo Ok però siamo a buon punto Allora vedendo la costruzione fatta da quel tizio lì che l'ha finita Quello lì in fondissimo che è inglese Esatto Mi sembra che siamo già a buon punto Non mi sembra che ci manchi troppa roba Anche secondo me sembra che siamo molto Vado a vedelo col mio tappeto che tu non hai A buon punto Non ci provare Non ci provare Ok più o meno dobbiamo farci 100.000 Esatto Sai cosa facciamo? Cosa? PewDiePie Simulator Assolutamente Con questi altri 28.000 Arrivo a 143.000 Che spero che bastino per finire tutto Speriamo Speriamo Ho fatto un sacco di soldi su PewDiePie Allora possiamo comprarci prima di tutto il logo dell'Apple Perché lo voglio finalmente vedere Eccolo lì enorme Bellissimo Bello 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 Poi allora abbiamo L'Owner Door Eh 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 Stai attenta Luci Eh ora è tutto più bello e luminoso Sì La seconda scala Esatto Così si può salire da entrambe le parti E poi iniziamo Pim 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 Vabbè questi li abbiamo già visti Li stiamo provando da due ore Quindi non c'è bisogno di farli rivedere Esattamente Ok andiamo a vedere da questa parte invece cosa c'è Vai Tavoli Tavoli Accessori Che no non possiamo premere Però sono molto carini esteticamente Che credo che a livello estetico simboleggino le cover dei cellulari Penso che siano intese come quelle Vedi tutte colorate Perché in effetti non li puoi usare Non ci sarei arrivato Però penso che Esatto simboleggino quello Ok Spim Tantissimi prodotti È sempre bello cliccarlo E poi non c'è l'assigno questa volta No non vedo nulla Bottoni Bottoni Eccola invece c'era Vedi Ah c'era Nascosta Se no ci fanno Non ci fanno finire realmente Mi arrabbio tantissimo Allora Tetto Su 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 Pesso che abbiamo finito Vero è apparso qua Tetto Credo di sì 3 2 Anzi Aspetta Lo voglio premere così il tetto Adesso voglio vedere se non ce la fai Ok Venga Venga Dai Dai Ale Non me la sconda No ma come scendo Ok Vai 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 Spim Eh luci Ce li abbiamo i soldi per le luci Oh no Per 5.000 Per 5.000 no Per 5.000 Un calcolo perfetto per finire il tycoon E non ti aspettavi le luci Non ti aspettavi le luci così all'ultimo Non frega Ce li abbiamo Penso siano l'ultima cosa giusto Non vedo altri bottoni Mi sa che l'abbiamo finito Mi sa che l'abbiamo finito Però sono deluso Perché io pensavo di riuscire a fare un calcolo perfetto di quanto servisse Eh non ci sei riuscito Questo è perché Capitan Jeff sulla spalla Che ti fa sbagliare giustamente Allora Io ti spiego una cosa Lui non lo devi nominare Mi hai preso alle spalle Come gli infami Come gli infami Mi stanno attaccando Minina da si è schierata contro di me Giustamente perché hai osato uccidermi Giustamente Giustamente non si fa La prego E ora cosa fai? Guarda No Hai provato a sfidarla ed è finito malissimo È finita malissimo Ti ha tirato il telefono in faccia per finirti È stata geniale Proprio in faccia potentissimo È stato davvero geniale Proprio di cattiveria Ti ha tirato il telefono in faccia È stato vero Mi vendico Mi vendico Ma l'educata non si uccide Steph No no Non si uccide E quindi penso che sia completato al 100% Sono stata molto contenta di averlo giocato È molto carino Riprodotto davvero davvero bene Mi ha fatto davvero piacere Quando sono diversi da solito Mi fanno davvero piacere da provare Perché appunto Che ti portano un po' di fresh Non te l'aspettavi No L'ho fregata Cingome Tieni Tieni Questa volta Fresh Facciamo vedere quante cingome io mangio Allora Queste sono davvero tutte quelle che io ho nella scrivania Aspetta Dove fare Ci sono pure queste Dove fare la torre Tutte lui le mangia Perché io non ne mangio praticamente mai Tipo una al mese E lui mangia tutte queste Eh Eh Fresh Mi piace il fresh Beh ragazzi Mi piace così Se un giudice Sentici un bel like E questa è la prima volta che vi ho detto il nostro video Potete considerare l'idea di iscrivervi Per non perdervi gli altri episodi Ciao E alla prossima Ciao 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 c'è 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 Ciao c'è